Ehi la! Che vuoi oggi? Beh, non noti nulla di strano, scusa! Certo che l'ho noto, ma non mi piace che mi tini sulle spine, Steph, quindi devi dirmi subito che succede! È molto semplice, abbiamo aggiunto nel mondo di Minecraft un nuovo minerale che ho deciso di nascondere in giro, qua per la mappa dove siamo, ok, e che dovrei trovare per craftare degli oggetti a dir poco incredibili. Spade che fanno proprio il finimondo, armature bellissime! Un sacco di roba fantastica, però le ho nascoste, quindi è una sorta di nascondino, dovrei trovarle un sacco. Questi qua sono gli unici visibili, tutti gli altri saranno intorno a te e tu non le vedrai, quindi non sarà facile. Ragazzi, come va? Io sono Fereniki e sono Steph, che si chiama Minecraft... Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft e oggi, a quanto pare, andremo alla ricerca del minerale misterioso, perché io non so bene cosa sia questo, Steph, e cos'è, arcobalenoso, ma poi cos'altro mi dici? Prima di tutto, andremo, devi andare, io nascosto e tu cerchi. No, no, facciamo una cosa, tu vai e io crafto, ah? Ah, bella, 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 questa è un'ottima idea, Feren, sei molto, molto furba. Lo so, io ho sempre un'ottima idea. Eh sì, eh sì, davvero fantastico. Allora, ti spiego un pochino, è un minerale più raro del diamante, che infatti ho dovuto nascondere io nel mondo, perché se ti mettessi a cercarlo per davvero... Non lo troverai mai. Non lo sti mai, Feren, ma proprio mai e poi mai. Quindi ho deciso di nasconderne un pochettino io in giro per il mondo, è un minerale più raro del diamante, lo puoi prendere soltanto col piccone di diamante e ti permetti di creare, diciamo, due tipi di oggetti. I primi sono quelli utili, armature, spade fortissime, una roba incredibile, addirittura c'è l'arco con le frecce, una roba fortissima. Il resto sono degli oggetti molto carini esteticamente, che rappresentano la carinità, carininità, sì, è una nuova parola che mi sembra più che adatta, esiste come, dell'oggetto, perché come puoi vedere già adesso è carinissimo, pensa degli oggetti creati così, è tutto arcobalenoso, infatti, però. Sarebbe bello se ci potessi fare gli unicorni, sarebbe perfetto. Ma cosa c'entrano? Non ci sono su Minecraft. Si abbinano sempre agli unicorni. No, puoi creare soltanto cose che esistono su Minecraft. Minecraft. Guarda che bellino, l'hai visto anche in versione horror? Ma poi guarda, il colore, come si dice, fa tipo l'onda, vedi? Sì, 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 si, 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 fa il wave di colori. Eh, esatto. Ok, allora, prendi tutti questi. Ok. Ok, e poi ti faccio craftare qualcosina, dopo di che iniziamo a cercare seriamente gli altri, perché ovviamente per craftare tutto non ti basteranno mai questi che hai appena preso. Beh, certo, ne ho solo cinque, sono molto pochi. Mi sono reso conto di una cosa, Fere. Hai rovinato tutto, come sempre? Sì. Perché? Perché non abbiamo la legna. Vai a prendere legna. Vado. Vai. Vado. Vai. Ma forse sai che dobbiamo fare i bastoncini. Vado a prendere la legna. Vado. Scusami, Fere, è colpa mia. Hai ragione, hai ragione. Avevo preparato tutto e mi sono dimenticato proprio la legna. La prendo al volo e arrivo. Ho preso pure la legna per sbaglio, perché come pensavo bisogna fare gli stick di questo fantastico. Eh sì, gli stick arcobaleno. Allora, creane soltanto due e fammeli vedere. Ok, uno e due. Ok. Ho già finito tutto. Fammi vedere. Guarda lì. Carini, eh? Eh, lo so, questi sono fantastici. Il problema è questo. Adesso hai soltanto un minerale? Eh sì. Ok, allora non possiamo creare neanche una spada, Fere. Lo so. Ok. Allora. Perché avevo capito che mi volevi far fare la spada. Va bene, andiamo a cercare gli altri, dai. Oh yes. Oh yes. Allora. Ti do il bastoncino, però, Stef. Ti do. Stef, non te lo imboscare, è mio. No, è carino, me lo tengo. Dammelo. Grazie. Stef! Grazie per il regalo. Non fare la spada, tu non ne avrai spade, dammelo. Vuoi fare una sfida di bastoncini? Sì. Picchiamoci. Picchiamoci che bastoncini. Ti sto massacrando, fermati che è meglio. Allora, ti stavo dicendo, indizio, tra virgolette indizio. Questa pianura è l'unico posto dove troverai, quindi non devi andare sopra le montagne, non devi andare sopra le colline, non devi andare nel deserto. Ciao, Stef! Dove è finita? Eh, qua. Sei la dileguata in mezzo secondo, eh? Mi hai detto, cerca, io vado a cercare. Guarda, ho detto, sicuramente li metto in un punto in cui ci starebbero bene, se non devo salire sulle montagne per forza qui sotto. Sei scarso, Stef. Beh, ma guarda che ce ne sono tanti altri, eh. No, sei scarso. Hai trovato uno di tipo 6 spot. Hai fatto schifo, ho già trovato tutto, guarda, eh. Adesso vado subito a farmi la spada. Guarda che mi creo anche io la spada e ti massacro, eh. Che cavolo vuoi fare? Risali. Allora, tu sai bene che le spade non le stai neanche utilizzare, prima cosa, eh. Beh, allora mi creo l'arco. Allora, seconda cosa mi sono già persa. Anche io. C'è qui la crafting table perfetta. Ci penso io, Stef. Sei sicura? Sei incapace. Ok che conosci le spade, ma non hai mai visto una spada del genere come Ferry a crearla, Ferry. Non puoi saperlo, è impossibile. Io te l'ho detto che tu sei un incapace, Stef. Allora, ehm, su cosa la proviamo? Tu di te! Non hai capito che sei totalmente esploso, Stef. Davvero? Sei esploso, sì, ma non hai capito quanto è stata bella l'esplosione. Io sinceramente mi aspettavo di farti un pochettino di danno, non di farti esplodere totalmente. Carca miseria. Fammi raccogliere tutte le mie cose. Allora. Hai uno scudo adesso. Vai. Hai visto l'esplosione? Fallo vedere. Vai. Perché così non ti uccido. Cioè, hai colpito pure la pecora? Sì. Vai di nuovo. Che figo! Bellissimo! Prova a picchiare la pecora. No, nella pecora no. Dai. Non c'è altro, Fere. Andiamo a cercare qualcosa di brutto. Ma non c'è nulla di brutto qui intorno. Che cavolo. Vado? Sì. Ok. È cattiva come spada. È cattiva come spada. Uh, e qui ci sono altri minerali. Ne approfitto. Che Fere non deve vedere. Dannazione. Li ha visti. Già che c'ero lì. Non erano molto ben nascosti. Lo devo ammettere. Lo devo ammettere. Però, se poi esageravo, Fere non riuscivi a craftare nulla. E certo, certo. Piangevi, mi rompevi le scatole. E così via. Sì. Allora, spada fatta. Cos'è la prossima cosa? Allora, la prossima cosa direi che ti potresti fare un po' di armatura. E certo, sì. Ok. Allora, vieni con me. L'arcobaleno sa che quella. Eh, sì, certo. Perfetto. Quanti ora hai? Allora, ne ho tredici. Tredici. Allora, vabbè, qualcosina ci esce. Partiamo. Potremmo fare l'elmetto? Sì. Allora, per l'elmetto, guardami. Ti faccio vedere. Ta, 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 ta. Ok? Ok. Vai. Classico, comunque, come puoi notare. Eccolo qui. Ok. Poi. Io ho otto. Me ne avanzano otto. Forse i gambali ci escono. Fammi vedere. Sì, con i gambali ne sprechiamo quanti? Ne stiamo sprecando sette. Me ne rimane uno. Ok, perfetto. Allora, sarà un po' brutto mettermi solo i pantaloni. Eh, lo so. E l'elmetto. Ma mi sono apparsi i cuoricini in più in una maniera assurda. Ah, sto vedendo. Quattro cuori in più? Eh, si dà. No, cinque cuori in più. Controlla anche l'inventario, perché ti dovrebbe scrivere che poteri ti dà. Basta che metti i cussori. Ah, ok. Ok, dici un po'. Cosa ti dà? Allora, armor Tognes. Ok. Altra armor max health più due. Da un sacco di cose. Da un sacco di... Ah, e poi anche gli altri, vedi, danno più tre max health. Infatti ne ho cinque in tutto. Bellissimo, Steph. Bellissimo. Forse facciamo il piccone adesso. Facciamo il piccone, dai. Ok, vai. Facciamo il piccone così vedi un attimino com'è. Credo che ti serviranno i rod di diamante e non quelli di spectrite, perché si chiama spectrite, questo minerale. Ok, ok. Quindi te li devo dare io, dato che me ne sono procurato un po'. Va bene, va bene, va bene. Allora, ehm... Toh? Dammi. Ok, prova a craftare un piccone normale usando quei bastoncini. Ok. Vediamo se va. Ok, ta, ta, ta. Sì, andato, andato, andato. Perfetto, allora, legge a tutti il potere. Allora, vediamo un pochettino. Se non sbaglio, Steph, dovrebbe minare cinque cose alla volta o qualcosa del genere. Ok, allora... Dobbiamo andare? Aspetta. A provare? Sì, poi ci serviva della cobblestone. Eh, aspetta, ce n'era qui in giro. Di qui, di qui, di qui, di qui, di qui, di qui, vieni. Guarda, questo pezzo della montagna secondo me è perfetto. Ok. Prova a prendere da qui la cobblestone e vediamo se funziona. Comunque ti volevo anche dire una cosa fantastica di quel piccone è che fa otto danni che è già più della spada di diamante. Uh, eh, vabbè. Un piccone, figurati. Vado. Ok, vai. Ha funzionato? Penso di... Allora, ha fatto l'esplosione, quindi suppongo che funzioni, però penso che ci sia troppa terra attorno. Guarda, vedi l'effetto che fa. Ok, prova adesso così. Togli, togli, togli. Ecco, ora sì, ora sì, hai visto? Allora, vai di nuovo. Guarda, mettiamoci qua proprio al centro, hai visto? Uh, vai. Guarda. Vedi? Perché ha 3.5 secondi di cooldown, quindi non te lo fa in continuazione. Esatto, esatto, esatto. Quindi provate ad andare verso avanti, voglio vedere un pochino quanto sarebbe comoda come cosa. Beh. Devo aspettare. Perché non ce l'ho sempre. Vedi, il cooldown è questo, guarda, te lo sto rifacendo ogni volta che ce l'ho, quindi non è neanche eccessivo. No, non è molto, cioè guarda quanto migliore hai scavato. Esatto, esatto, esatto. È un signor piccone. È un signor piccone, bisogna metterlo, è davvero, davvero forte. Seguimi. Guarda questa cesta ma non toccarla. Guarda che cosa fantastica. Sono caduta in acqua, aspetta. Te l'ho detto che avremmo potuto craftare delle cose acqua balenose. Oh, ma è stra bella. Allora, allontanati un po', ti faccio vedere un pochino di cose fantastiche che ci sono. Non posso sbirciare? No. Perché poi ti spoileri le cose ed è molto più brutto. Primo di tutto. Ma io questa armatura me la voglio ottenere per sempre. Devi sapere, in primis, che con il netherrack e con l'end puoi trovare altri tipi di specrite, come puoi vedere. Ok. Sono due tipi diversi. Pensa anche per costruire potrebbero essere carini questo genere di blocchi. Ovviamente anche questi sono completamente rari. Oh, è vero. Come vedi, comunque ti danno la stessa antica cosa e li puoi trovare nelle varie dimensioni. Sì, ok. Il che è molto funny. Poi abbiamo la sand. Oh. Che è tipo meravigliosa, secondo me è una delle cose più belle. Ma questo è solo un blocco estetico, giusto? Sì, sì. Guarda, è notato che corri anche lento se ci stai sopra. Oh mio Dio. Vedi? Sì, tira lento, Steph. E questo a livello estetico è fantastico. Dimmi. Voglio un mondo fatto di questa sabbia. Lo so. Che potresti abbinare a questo vetro. No, ma sono troppo belli i blocchi estetici. Lo so. Beh, era ovvio. La sabbia, vabbè, vince sul vetro. Con tutto arcobalenoso era ovvio. Vince sul vetro. Poi, beh sì, anche secondo me. Abbiamo però anche il blocco invece che il vetro. Ok. Che è così, però io continuo a preferire la sabbia personalmente. Anche io è molto molto bella, molto ben fatta. Poi mi piace anche il fatto che ti rallenti, una figata, una figata. Poi abbiamo questo che è molto divertente. E poi arrivano le cose un po' più toste. Allora, facciamo così, facciamo così. Ti volevo anche far vedere questo e questo. C'è un sacco di roba a fare, c'è un sacco di roba. Eh, ho notato, ho notato, ho notato. Prima di tutto, e tu direi, Steph, che cosa stai facendo? Ho sbagliato. Ecco qua. Vabbè, ma... Piccono, te li tolgo? No, 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 tranquilla. La fai? Guarda, vieni. Ok. Eh, ma qua non si nota. Mi serve però... Beh, certo che non si nota. ...dei blocchi normali. Comunque, hai capito? Sì, è una scala. Esatto. Guarda, vieni qua. Facciamo tipo cos'è, ne so, così. Opla. Ecco, sì, ora si nota molto, molto di più. Carina anche questa, carina. Ed è carino che comunque abbiano personalizzato anche tanti blocchi rispetto a fare soli minerali. Vai. La bussola, arcobaleno. E ti fa trovare le meraviglie dell'arcobaleno, Stef. Sai che non so che cosa indica? Non lo so. Non so dove ti porta. Gli unicorni. Ma non è che ti porta... Dagli unicorni, Stef. No, magari dove c'è della spiectrite. Eh, può essere. Mi sa di no, eh. Forse è una semplice bussola che ti segna il nord, evidentemente. Non lo so, eh. Basta. Sì, 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 niente. Niente, 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 niente. Peccato, sarebbe stato figo come cosa, vero? Pronta? Sì, sono pronta. Eh? È peggio della spada. Guarda di nuovo. È bellissimo. Ha un pochino di cooldown per sparare. Sì, ma perché è fortissimo. È fortissimo, è fortissimo. È fortissimo, è normale. Poi tu devi sapere che io ti ho fatto craftare la spada debole. Ok, c'è anche quella più... No, cos'era quella cosa di prima, Stef? Quella la vedrai dopo. No, voglio vedere la cosa di prima. Cos'era? Fidati che vuoi vedere questa spada, vado? Vai. Ok, l'esplosione è molto più grande, quindi immagino... Fa 20 di attack damage e ha un spettrite damage di 4 come livello. Il tuo dovrebbe fare danno 14 e spettrite damage 3. Esatto. Quindi è totalmente su un altro livello. Spacca totalmente la faccia. E poi farece questo. Che cos'è? Non ne ho idea. È strano. Non ne ho minimamente idea. Vai. Ok, sì, è pericoloso, Stef. È pericoloso. E ha fatto male anche a me, oltretutto. Quanto cooldown ha? Eh, non lo so. Fammi leggere, te lo voglio dire, nella precisione. 3.50. Ok. Non è tanto. Riprova sulla montagna, verso la montagna. Come quello del piccone. Vai. Quindi non è troppo. Aspetta, fammi avvicinare. Fammi sognare. Fammi avvicinare. Vai, Fede. Secondo me puoi stare anche un po' più distante, però, eh. Dici. Sì. Sì. No, 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 no. Devo proprio avvicinarmi al blocco. Sicura? Sì. Sì, sì, sì. Cioè, se no, non funziona. Guarda. Guarda. Ah no, ora ho tirato. È bene. È una schiappa. Spara. Ok. E prima stavo premendo destro 20 volte, no, ma faceva, Steph. Altro che l'arco. Sta roba è ancora più forte, Fede. Vuoi provare? Sì, grazie. Vanno già in pace. Perché mi ha fatto danno. Ho tutti i cuori neri, Steph. Uh, quindi mette anche... Wither 2. Per un po' di secondi. Oh, mamma mia. Per un po' di secondi. Ma che potenza ha questa roba. Molto, molto, molto potente. È spettacolare. È spettacolare. Per ragazzi, è la prima volta che vi ho avuto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.